Ugo Amaldi è stato un matematico italiano. Biografia. Laureatosi 23enne in matematica a Bologna sotto la guida di Salvatore Pinkerle, fu nominato cinque anni più tardi, nel 1903, professore di algebra e geometria analitica presso l'Università di Cagliari. Si trasferì poi all'Università di Modena, a quella di Padova e infine a Roma, dapprima nella Facoltà di Architettura e in seguito in quella di Scienze. Lavorò principalmente sulla teoria dei gruppi continui di trasformazioni, di ciò trattano, tra l'altro, due corpose memorie e un volume 501 lezioni. Apprezzato trattatista, collaborò con i matematici Tullio Levici Vita e Federigo Enriches, dando un contributo originale e sostanziale alla pubblicazione di numerose opere e trattati scientifici. Socio dell'Accademia dei Lincei e di altre istituzioni scientifiche, era considerato persona di indole pacata e imparziale, di sincera e non ostentata religiosità. Fratello dello psichiatra Paolo, sposò la signorina Luisa Basini da cui ebbe tre figli, Adalgisa, Mercede ed Edoardo, fisico. Era nonno di molti nipoti fra cui il fisico Ugo Amaldi. Opere. Ugo Amaldi e Tullio Levici Vita, lezioni di meccanica razionale Ugo Amaldi e Federigo Enriches, elementi di geometria Ugo Amaldi e Tullio Levici Vita, compendio di meccanica razionale V. 1 Cinematica, principi e statica, V. 2 Dinamica, cenni di meccanica dei sistemi continui bibliografia. Tullio Viola, Necrologio, Boll. Umi 12, pp. 726-730. Alessandro Terracini. Necrologio, A.T.H. Scienze Torino, 92, pp. 687-695. Francesco Tricomi, matematici italiani del I secolo dello Stato Unitario, Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali, Serie 4 Tomo e altri progetti. Vichisource contiene una pagina dedicata a Ugo Amaldi collegamenti esterni. Ugo Amaldi, in biografie di matematici italiani, Pristem.